Benvenuti a tutti nel mio canale di Notizia Italia nel mio cuore, la storia di oggi è critiche e polemiche per una famosissima dama di uomini e donne, proprio lei si mostra su social senza veli e il web si scatena, piovono critiche e accuse La protagonista del salotto dei sentimenti di Canale 5 costretta a intervenire Wed, problemi per una dama della trasmissione.Continuano ad essere sempre presenti nelle vite degli spettatori, nonostante il programma sia ormai finito da qualche settimana, i protagonisti del salotto dell'amore di Canale 5. L'assenza di Maria De Filippi e dei suoi ospiti comincia già a farsi sentire l'attesa fino a settembre pare interminabile. Ma i telespettatori possono stare tranquilli, i colpi di scena, anche fuori dalla trasmissione, non mancheranno A proposito di sorprese, avete visto che cosa è successo ad un volto noto della trasmissione? Una dama molto famosa, tra le più amate di uomini e donne, perde il controllo e si mostra sui social senza veli Piovono per lei critiche e accuse pesanti. La protagonista di questo scandalo senza precedenti costretta a intervenire per placare gli animi del web Ecco che cosa è successo e chi è entrato nell'occhio del ciclone Chi è la dama di uomini e donne che si è mostrata sui social senza veli? Al centro delle polemiche un volto amatissimo di uomini e donne, proprio lei si mostra sui social senza veli e scoppia il puttiferio Stiamo parlando di Chiara Rabbi, la fidanzata dell'extromista Davide Donadei La giovane romana, che da quando è in coppia con l'ex pupillo di Maria De Filippi si è trasferita nella sua regione, la Puglia, ha iniziato a lavorare insieme a lui nell'attività di famiglia, il ristorante Effort Sport Village I due stanno insieme da due anni e si amano alla follia. Perché Chiara è finita al centro delle polemiche. Nelle scorse ore, la bella ex corteggiatrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video nella quale la si vede in ottima forma, indossare solo uno slip e reggiseno La ragazza, facendo una sorta di sfilata, si mostra davanti alla telecamera del telefonino mettendo in evidenza il suo corpo bello e tonico Ecco che iniziano a piovere critiche, polemiche e commenti negativi. Tra chi le ha detto di vergognarsi e chi le ha dato della poco di buono, Chiara Offesa è stata costretta a intervenire Sempre attraverso Instagram, ha pubblicato il suo sfogo chiedendosi come mai il suo video abbia fatto così tanto scalpore e perché quello del fidanzato, che si mostra nella stessa medesima situazione, quindi anche lui semplicemente in boxer, viene invece apprezzato Chiara finalmente ha raggiunto una serenità con il suo corpo e mostrarsi in intimo è una prova per dimostrare a se stessa una nuova sicurezza raggiunta Ci sono giorni in cui mi vedo bene e altri in cui mi vedo peggio Se mi vedo bella e pubblico un video in mutande che male c'è? Non ho solo quello da mostrare, ho anche quello. Sono arrivata ad un punto che mi piaccio così tanto che voglio mostrarmi Nonostante abbia ricevuto tantissime critiche da haters feroci che le hanno detto di vergognarsi, tanti altri si sono schierati dalla sua parte e la hanno sostenuta Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione